Oggi il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi compie 86 anni, quindi gli facciamo i nostri auguri in un video che ha condiviso sui suoi canali social. Il leader degli azzurri ha ringraziato per gli auguri ricevuti, ha mostrato il regalo che ha ricevuto oggi dalla compagna Marta Fascina, una mongolfiera che si è alzata, come vedete, sopra il loro giardino, da cui sono stati lanciati dei palloncini rossi a forma di cuore.